Nooo, che punto! Straordinarie tutte e due, standing ovation sul centrale dell'Inner Tennessee. Emily Senner, incredibile, 0-15. Non è vero, non è vero cosa ha fatto. Non so cos'è più difficile di tutti questi colpi, la presa da terra da Ivanovic. In corsa, tutta scoordinata. Stanno impazzendo anche nel suo angolo. Si caricano di brutto. Grazie. Grazie.